Ciao a tutti, benvenuti. Questo è il canale Opendante con le mie lezioni online. Qui in questa playlist trovate le lezioni del corso di fisica per i ragazzi del liceo scientifico del primo e del quinto anno. Quindi conterranno un po' di teoria della misura, un'introduzione della fisica, equilibrio, vettori, cinematica, e poi l'elettrodinamica e l'attività speciale. Spero che questo vi aiuti nello studio. Mi auguro che seguiate il canale, che lo troviate utile e interessante. In ogni caso se avete domande o qualcosa da chiedere o da proporre potete lasciare un commento. Vi invito comunque a iscrivervi al canale e vi ringrazio dell'aiuto e del sostegno. Arrivederci e buona visione a tutti.